Io sono soddisfatto, lo dico, è chiaro che quando sei a scegliere dispiace, devi dire qualche no, devi fare qualche rinuncia, la legge ovviamente impone il 40% di genere, sono nove assessori, quindi non è che puoi fare dai margini movimento infiniti. Fai le scelte che ritieni migliori per quel settore, per quel momento storico che stiamo vivendo, per le persone che fortunatamente tante si sarebbero messe a disposizione. Mi dispiace dire anche qualche no, però la scrematura, il percorso che poi ti porta alla giunta che oggi abbiamo presentato, a me soddisfa molto, io sono convinto che si potrà fare un ottimo lavoro per la città. Torna l'assessorato alla sicurezza, andrà una donna, Flora Leoni. Avevo mantenuto la delega io, adesso sono cambiate alcune cose, c'è una figura secondo me che può assolutamente dare risposte importanti, sia un settore uno di quelli più sentiti, ma soprattutto che può dare risposte sia al settore della mobilità e anche ovviamente attraverso il meccanismo, l'utilizzo del lavoro straordinario della nostra Polizia Municipale, che con un sacrificio incredibile, le donne e gli uomini della Polizia Municipale fanno un lavoro importante a 360 gradi sul nostro territorio. Avere un assessore in questo momento che ha le competenze di Flora, ha un rapporto personale, io ho grande stima di lei e della sua modalità di lavoro, credo che può essere una marcia in più in un settore che va assolutamente governato e gestito. Perché Faggi, capo di gabinetto? Ci sarà un'evidenza pubblica, faremo un percorso. Io, nella mia intenzione, nella mia idea, c'è un istituire appunto un'idea di capo di gabinetto per l'amministrazione comunale, perché penso che sia utile avere una persona, mi sono reso conto, perché ragazzi, nel fare questo mestiere bellissimo e complesso si imparano tante cose, che avere una persona di fiducia, quando sarà appunto terminato tutto il percorso che le leggi ci dicono di fare, che la norma ci dice di fare, avere una persona di fiducia che ti accompagna, ti prepara le cose, ti segue alcuni argomenti, predispone quelle che sono le necessità, o imbastisce anche quelle che possono essere le risposte alle necessità delle persone, delle aziende, delle imprese, dell'associazione, eccetera, e che, essendo una persona di tua fiducia, ovviamente, con cui ti puoi interfacciare, sia tu sindaco, ma anche gli assessori, può essere estremamente utile, perché la macchina è complessa, è molto spesso lenta, è complicata da gestire, e un capo di gabinetto serve molto, un gabinetto che abbia un'attitudine politica, non meramente tecnica, serve molto per istruire le tante complesse questioni che un comune di questo richiede di istruire. L'assenza nella squadra di governo di un diretto rappresentante della sua lista civica, come deve essere eletta, sindaco? Io faccio fatica a capirlo, lo dico onestamente, perché dentro la giunta ci sono persone che vengono dal mondo dei partiti, cioè che hanno una storia di partito alle spalle, una tessera in tasca, e persone che di partito non ci si sono nemmeno mai avvicinate, o che magari l'hanno avuta in tempi molto, molto passati, e quindi probabilmente si possono definire persone che vengono dalla società civile. La lista civica ha espresso consiglieri comunali, quattro, ha avuto uno straordinario risultato, questi consiglieri comunali andranno valorizzati, faranno un loro lavoro importante, sono sicuro, nell'interesse della città, nell'interesse degli argomenti che seguiranno, però io credo che nella composizione complessiva della giunta ci sia sostanzialmente tutto. Io non sono convinto dell'idea che necessariamente devi pescare dalla lista, è una delle ipotesi di lavoro, ma si può fare anche diversamente. L'importante è che ci sia una rappresentatività ampia di quelle che sono le sensibilità cittadine. Ecco, l'assessore alla cultura si occuperà anche di cittadinanza e quindi di cittadinanza. Certo, l'idea è questa. C'è un sistema legato ovviamente alla capacità di creare cittadinanza. Noi abbiamo bisogno di cittadini, di persone che, indipendentemente da dove sono nati, abbiano voglia di crescere qui, utilizzare le loro energie su questo territorio e creare le basi per il loro futuro qui. Quali strumenti ho io per far sì che chi decide di scommettere il proprio futuro qui trovi le condizioni? Ho la scuola, su cui si è fatto un lavoro pazzesco e continueremo a fare un lavoro pazzesco, e ho gli strumenti della cultura, di quelle che sono tutto quel lavoro di formazione, di conoscenza, di relazioni che possiamo mettere in campo. Ecco, poteva essere una delle due scelte, abbiamo fatto una scelta di questo genere, ma nel senso noi vorremmo veramente provare a far sì che da un lato, ovviamente, tutto rispetto delle regole e delle norme ci mancherebbe altro, dall'altro patto percorsi di cittadinanza che davvero facciano crescere futuro per questa città. Nulla osta a livello formale alla nomina di Varnocci, ma c'era l'opportunità politica vista alla vicenda Stato? Sì, perché nel senso francamente il fatto, quello più complicato e grave, devo dire, e qui ho grande rispetto, la Procura di Prato sono degli straordinari professionisti, sono persone che hanno fatto le loro valutazioni e hanno dichiarato che quel fatto non sussisteva. Questa è una questione molto, come dire, meno rilevante, è una roba abbastanza marginale su cui fra l'altro il percorso è concluso, perché non mi sarei mai permesso, mai permesso di andare a inserirmi in percorsi che fossero aperti. Però ho avuto la certezza e la conferma che da parte del Tribunale sostanzialmente la vicenda si dice definita e considerando appunto che è un fatto piuttosto marginale, e non c'era meglio, poi carità, ma insomma stiamo parlando di un fatto molto marginale, io credo che non fosse giusto inibire la possibilità a una persona che conosce e ama questo settore di dare proprio un tributo alla città. Deleghe speciali potrebbero arrivare? Ci stiamo lavorando, deleghe speciali secondo me, sì, io credo che sia giusto che su alcuni temi specifici ci si possa lavorare sopra, però la stiamo formalizzando, devo capire anche gli uffici qual è il percorso, ma nella mia testa l'ipotesi c'è. Tra le priorità parlato di rifiuti tessili, ce ne sono altri? Perché i rifiuti tessili e se ce ne sono altri? I rifiuti tessili perché è una sfida aperta che stiamo quasi portando a compimento, grazie al lavoro in sinergia delle associazioni di categoria e della regione toscana. Il primo incontro pubblico fatto da neo sindaco e rieletto è stato insieme all'assessore Fratoni un gruppo di imprenditori professionisti apposta per parlare di questo tema. I piazzali dei nostri artigiani sono sovraccarichi, noi non possiamo più permetterci, non possiamo andare in tilt, è una questione da affrontare immediatamente, siamo vicini alla chiusura di questo protocollo d'intesa, lo vorrei chiudere rapidamente. E poi tutti i temi a una grande città di 200.000 abitanti, dalla cura del verde pubblico alla scuola, dalle manifestazioni culturali alla sicurezza, dallo sport alle politiche della mobilità, eccetera, eccetera. Nel senso, io quello che ho chiesto alla mia giunta, su cui non transigo, sono, l'ho sempre detto e lo roba di disco anche stavolta, passione e attenzione verso i cittadini, la partecipazione, il metterci la faccia, so che è una brutta espressione, ma io su questo ho chiesto la massima presenza sul territorio, di ascolto e di presenza proprio fisica e dall'altro lato la lealtà nei rapporti verso il sindaco, che significa che non sempre ci si dà ragione per forza, ma se ne discute poi si raggiunge un punto. Ho raggiunto il punto che il punto è quello di tutti e a tutti chiedo, proprio perché le priorità sono tante, di lavorare con attenzione e passione.